Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini è un romanzo di denuncia sociale, quindi fa parte di un filone della narrativa del secondo dopoguerra che possiamo definire così in generale, la narrativa dell'impegno. All'interno di questa narrativa, una narrativa realistica, abbiamo tantissimi autori, pensate appunto alla stagione del neorealismo e poi abbiamo questo autore molto molto originale che è Pierpaolo Pasolini che appunto nel 1955 pubblica Ragazzi di vita. E' come vedremo una forma di narrativa che mette al centro la degradazione morale e materiale di cui si è impadronita anche la borgata romana. E' come dire, in questo luogo avvengono dei fatti di violenza, avete in mente per esempio le baby gang e tutte le cose che purtroppo costellano anche le nostre cronache quotidiane di episodi di episodi di teppismo, di delinquenza, eccetera. Ora, ci presenta queste cose anche Pierpaolo Pasolini nel suo romanzo, però è come se ci facesse capire che non è colpa di questi ragazzini se sono così, ma è colpa del degrado sociale, della situazione sociale in cui si trovano a vivere. Ma andiamo con ordine, diciamo qualcosa anzitutto su di lui. Chi è Pierpaolo Pasolini? Nato a Bologna nel 1922, il padre era un militare e quindi si spostava per via degli incarichi militari, insomma, che doveva onorare. Poi, seguendo il padre proprio, si sposta in tantissime altre città, a Parma, a Belluno, a Cremona. Poi ha dei contrasti col padre. Lui scrive, tutte le sere aspettavo con terrore l'ora della cena, sapendo che sarebbero avvenute le scenate. Allora poi segue la madre. La madre è maestra, ottiene, diciamo, un incarico in Friuli, a Casarsa delle Delizie. Allora lui segue la madre in Friuli. Dice, mi raccontava favole, mi leggeva storie, per me era come Socrate, no? Quindi molto legato alla madre. Nel 1925 era nato il fratello Guido, che poi morì combattendo da partigiano nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Passa quindi questi anni, soprattutto poi nell'immediato secondo dopoguerra, in Friuli, Pierpaolo Pasolini, e comincia a scrivere delle poesie in friulano. E quindi alimenta questa passione per il dialetto. Antifascista, si laurea in lettere, su Pascoli, e dicevamo scrive poesie, sì anche in italiano, ma forse quelle più significative, dicevamo, sono proprio quelle in dialetto friulano. Insegnante di scuola media a Udine, aderisce al Partito Comunista nel 1947. Nel 1949 viene segnalato ai carabinieri per corruzione di minorenne. E il PC, il Partito Comunista, diciamo, era preoccupato di mostrarsi dal punto di vista della moralità integerrimo e tradizionale in un certo senso. E quindi quando comparvero queste notizie, questo scandalo della omosessualità, per non dire quasi pedofilia, insomma, di Pierpaolo Pasolini, lui fu espulso dal Partito Comunista per indegnità morale. Perse anche il suo posto da insegnante, nonostante le lettere dei genitori e degli studenti, che invece desideravano che lui rimanesse lì. E allora Pierpaolo Pasolini è costretto ad andare via dal Friuli e va a Roma, dove passa alcuni anni davvero molto difficili, anche da un punto di vista economico. Si deve barcamenare in qualche modo, correggere le bozze, fare venditore sulle bancarelle rionali. E' in questi anni proprio che incontra i giovani ragazzi di Borgata, di Prima Valle, Quarticciolo, Ertiburtino, Pietralata. Poi ottiene, per fortuna, un incarico in una scuola media privata di Ciampino. Collabora a riviste, alla sezione letteraria di un giornale radio. E ci sono in questo periodo anche dei legami di amicizia con alcuni poeti, come Sandro Penna e Attilio Bertolucci, o scrittori e narratori come Carlo Emilio Gadda, o Sergio Citti, che li fece un po' quasi da maestro insegnante di romanesco. Ecco qui vedete Pierpaolo Pasolini qua in alto a sinistra, con una delle sue classi appunto di questa scuola media. Lui non si fermava però, come dire, alla fine dell'orario scolastico, poi andava a casa, come faccio io, ma intratteneva con i ragazzi un rapporto, aveva un legame molto stretto. Si metteva a giocare a pallone con loro, piaceva molto giocare a calcio. Era uno dei modi che aveva per instaurare un rapporto con questi ragazzi, ragazzi di Borgata, non solo i suoi alunni. Andava in giro quasi per tutta Roma, pomeriggi, weekend, eccetera, per intavolare questi rapporti con questi ragazzi. Ecco, nel 55, dopo tutta questa esperienza che ha avuto in questi primi anni di quel decennio degli anni 50, diciamo che riversa tutta questa esperienza, questa conoscenza dei fatti, della realtà dei giovani di Borgata, in questo romanzo di cui parliamo oggi, che è appunto Ragazzi di Vita, che ha un successo editoriale straordinario. Molti dicono però che l'ha avuto anche per gli aspetti un po' torbidi, anche un po' diciamo espliciti nel campo sessuale, addirittura il presidente, se non sbaglio il presidente del Consiglio Segni, gli fece una denuncia, perché era andato al di fuori della moralità, della morale nel suo romanzo, perché lì in quel romanzo descrive dettagliatamente, ad esempio, i rapporti che hanno questi ragazzi di Borgata col sesso, i loro primi incontri col sesso, li hanno tramite delle prostitute. E quindi vengono descritti esplicitamente queste cose, no? Ma poi per fortuna il giudice, anche perché c'è stata quasi una sollevazione di uomini di culture, alcuni abbiamo già detto che conoscevano Pasolini. Allora, sono intervenuti come testimoni in questo processo e hanno convinto il giudice, il quale infatti nella sentenza ha ammesso questo, che è vero che c'era il sesso esplicito in questo romanzo, ma non con l'intento, per esempio, di degradare la donna, ma semplicemente rappresentando quella che è la realtà dei fatti senza nessuna discriminazione, per esempio. Poi, l'anno dopo, scrisse Una vita violenta, che è un romanzo che è più o meno sulla falsariga di Ragazzi di Vita, anche se là c'è un po' un protagonista, mentre invece in Ragazzi di Vita ci sono tanti personaggi, non si riesce a capire qual è il protagonista, perché il protagonista è la Borgata stessa, sono i ragazzi appunto di vita della Borgata stessa. Sono due successi editoriali scandalosi. Questi sono anni in cui Pasolini vive anche nelle borgate, va nelle famiglie di questi ragazzi poveri, poveracci, dà loro un aiuto, una mano, dà loro dei soldi, se avevano bisogno di soldi, tutto quello che può, perché, vabbè, all'inizio lui era semplicemente un insegnante, anzi, abbiamo detto che faceva fatica a sbarcare il lunario anche lui, no? Poi però ha un successo e questo successo comunque lo condivide con questi ragazzi di vita che l'hanno ispirato, no? Con quella Roma degli anni 50 è anche ancora una Roma che risente del dopoguerra, quindi è in una fase di ricostruzione lenta e difficile in quegli anni. Bene, ragazzi di vita. E come si dice proprio nella pagina N54 del nostro libro, lui dice stesso, nel titolo ho inteso dire ragazzi di mala vita. Insomma, è il branco in azione. Lo vedremo in azione in questo brano che leggeremo oggi. Non ho inteso fare un romanzo nel senso classico della parola. Ho voluto soltanto scrivere un libro che è la testimonianza della vita da me vissuta per due anni in un rione di Roma. Ho voluto fare un documentario. E questo un po', poi, come vedremo, continuerà a farlo anche con altri mezzi, non più solamente con i mezzi della narrativa. Cioè descrivere, raccontare di questi ragazzi, di come vivono la giornata dalla mattina alla sera, e più delle volte lontano da casa. Cioè, sono come i ninos de rua del Brasile di oggi, no? Gente che o non ce l'ha addirittura una casa, una famiglia, o se ce l'ha è disastrata, spesso vivono in baracche, magari sono sfollati dal bombardamento di San Lorenzo, un quartiere di Roma che era stato colpito dalle bombe degli alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E lui però così spontaneamente racconta, no? Quello che vivono questi ragazzi, i loro desideri, il loro modo di vivere è molto materiale, diciamo così, molto grezzo. Ecco. Non c'è un narratore. Il narratore si nasconde. Quindi possiamo dire un tipo di narrativa realistica, un po' sulla scorta di quello che abbiamo visto anche in verga. Sì, senz'altro, no? Addirittura poi lui adotta proprio la parlata romanesca, fa parlare questi ragazzi così come parlano loro. E quindi nel romanzo è presente proprio il dialetto, così come abbiamo visto. Lui aveva sempre avuto un fascino per il dialetto, per il mondo popolare, sin da quando scriveva poesie in friulano. Adesso scrive romanzi in romanesco. Però l'idea è un po' sempre quella, di riuscire a cogliere, a rendere quella che è la spontaneità della vita di questi ragazzi, di questa gente. È un libro documentario però. Ecco, lui c'è una differenza quindi rispetto sia al neorealismo dell'epoca che invece era una narrativa che sulla scorta di quanto è avvenuto, soprattutto nella guerra della resistenza, guerra di liberazione del regime. Il neorealismo era, sì, senz'altro parlava direttamente della realtà, eccetera, ma con anche un desiderio di, come dire, un progetto politico, tra virgolette, no? C'era dietro questa corrente del neorealismo. Così come dietro il verismo, dietro verga, eccetera, c'era tutta, abbiamo visto, una poetica particolare che era la poetica del verismo che aveva molto a che vedere con la poetica del naturalismo. Invece Pasolini dice, no, il mio è semplicemente un documentario, no? I protagonisti sono questi adolescenti nella periferia di Roma, le giornate trascorse alla ricerca di soldi, poche monete, la strada che è la loro scuola. Loro non frequentano la scuola, quindi vanno in giro per la città, magari a prendere, a cercare, che ne so, pezzi di rame, di ferro, il ferro bedò, è un luogo addirittura con una specie di flashback che viene rappresentato all'inizio del romanzo in cui avevano operato i tedeschi, i nazisti, quando c'era l'occupazione dei tedeschi, no? Vanno in giro a raccattare qualcosa per riuscire in qualche modo a procurarsi da mangiare, perché la famiglia non dà loro niente. Come se dicessero, andate fuori di casa, vedete voi, brigatevela come riuscite, no? Ecco, sono caratterizzati, come vedremo nel brano che leggeremo adesso, da strafottenza, ignoranza, malizia, prepotenza, non ci sono grandi sentimenti, non c'è amicizia, non c'è amore. Ecco, abbiamo detto che il rapporto con l'altro sesso è semplicemente qualcosa di istintivo, diciamo così, di... Cioè ci sono, come dire, degli istinti, delle pulsioni sessuali che vanno sfogate, non c'è, non ci sono sentimenti, ci sono rapporti d'amore, che ne so, adesso lo vedremo, perché leggeremo delle ragazze, e le ragazze sono come loro, quindi non provano sentimenti, no? non c'è la famiglia, la famiglia non c'è, non esiste, in alcuni casi letteralmente non esiste, in altri casi è come se non esistesse. Ecco, quindi, che Pasolini però è innamorato di questa gente, quindi va da loro, magari se non hanno famiglia, in un certo senso, fa loro un po' da padre, insomma, in tavola dei rapporti quotidiani, insomma, conversa con loro, gioca con loro, fa tutto, insomma, con loro. Dopodiché, negli anni seguenti, scriverà Le cenere di Gramsci, un dialogo monologo di sapore foscoliano, dall'impostazione provocatoria della sperimentazione espressiva, alternativa sia al neorealismo sia al post-ermetismo, un qualcosa a metà tra poesia e prosa, in un certo senso. Poi, ovviamente, inizierà a fare dei film. Il primo film, il film dell'Accattone, è molto simile al romanzo Una vita violenta, il secondo romanzo, e descrive appunto la vita di un giovane che deve, in qualche modo, tirare a sera, trovare qualcosa per cui procurarsi da mangiare, e quindi è abbastanza simile e comunque alla vita, dei ragazzi di vita di cui parleremo oggi. Poi c'è Mamma Roma, bellissimo film con Anna Magnani, Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e Uccellini con Totò, Edipo Re, Medea, Il Decameron, di cui abbiamo visto delle parti qualche anno fa, i racconti di Canterbury, Salò e le 120 giornate di Sodoma, che è stato fatto l'anno della sua morte, quindi nel 75. Questi sono i cartelloni pubblicitari di alcuni dei film, questo è il primo film di Pasolini, e questo è proprio il Decameron, con Franco Citti, come protagonista, Mamma Roma, dicevamo, con Anna Magnani, e qui Pasolini, proprio probabilmente in uno dei momenti, insomma, delle riprese, insieme con Anna Magnani, La Medea, con Maria Callas come protagonista, Il Fiore delle Mille è una notte, spesso faceva dei film ad episodi, proprio come il Decameron, in cui prendeva spunto dalle novelle, l'ha fatto anche con i racconti di Canterbury, in modo, anche lì, abbastanza esplicito, Il Porcile, oppure La rabbia di Pasolini, Teorema, altri film, e questo è una, invece, un'inquadratura da uccellacci e uccellini, sempre con Totò e Franco Citti, se non erro, e poi il Vangelo secondo Matteo, un modo di rappresentarci il Vangelo ben diverso, ad esempio, da Zeffirelli. Poi anche Testi Teatrali ha scritto, dicevamo, Il Porcile è uno di questi, Orgia, Calderon, altri, Affobolazione, Pilade, Bestia da Stile, gli scritti corsari, ecco, lui intanto era diventato anche un opinionista, quindi scriveva sui giornali e, come dire, esprimeva delle idee che erano sempre fortemente anticonformiste, radicali, e quindi al di fuori di ogni regola, possiamo dire, no? In questi articoli, che alcuni di essi furono pubblicati negli scritti corsari, possiamo trovare una denuncia della borghesia italiana e, soprattutto poi, del partito che era al governo allora, cioè il partito della democrazia cristiana, che si fa portavoce, secondo Pasolini, proprio di questo perbenismo, insomma, borghese, moralismo, la crisi della Chiesa come guida spirituale, non perché lui fosse contrario alla religione, anzi, assolutamente no, ma voleva appunto che fosse una guida spirituale, e non una guida politica, ad esempio, il vuoto di potere politico, dicevamo, la denuncia del potere, l'appiattimento tra destra e sinistra, il fatto che lui, ovviamente, come abbiamo visto, fosse antifascista, eccetera, non voleva dire che non aveva niente da dire agli uomini di sinistra, anzi, era molto, molto critico anche con loro, soprattutto poi con i sessantottini, l'omologazione antropologica non poteva sopportare una cultura che ci massifica, che ci omologa, e quindi ormai grazie alla televisione noi tutti impariamo l'italiano, e quindi perdiamo la nostra identità popolare, ad esempio il dialetto, perdita di valori da parte dei giovani, i valori della nostra, come dire, i valori delle generazioni precedenti, anche della civiltà contadina, se vogliamo, che invece sono distrutti, distrutti dalla televisione e anche dalla scuola, ce l'aveva con la scuola, e mentre tutti quanti elogiavano la riforma della scuola media unificata del 1962, lui era l'unica voce critica rispetto a questa grande riforma scolastica, perché proprio diceva in mezzo, è uno degli strumenti attraverso i quali ci vogliono omologare gli uni agli altri. Oggi parleremo, leggeremo un brano in cui questi ragazzi di vita si mostrano molto violenti. Lo stesso Pasolini fu vittima della violenza che denuncia, ad esempio, anche in questo romanzo, nel senso che fu ucciso nel 1975, in circostanze misteriose per cui io non vi so dire sinceramente, non so se chi lo sa, che è stato sia l'esecutore sia soprattutto il motivo per cui è stato ucciso Pierpaolo Pasolini. Sta di fatto che anche il modo in cui lui si toglie di scena è un modo che, come dire, è un po' in linea con quello che è stata la sua vita. Cioè, lì a Roma, in un posto un po' di periferia, forse proprio da uno di quei ragazzi di Borgata che poi sono diventati grandi e chissà che che giri, che rapporti c'erano fra di loro e chissà, ripeto, per quale motivo è stato fatto fuori. Poveraccio. Arriviamo adesso, dicevamo, a leggere un brano tratto dal sesto capitolo di Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini intitolato così Il palo della tortura. Volente o nolente, il cinema in quegli anni stava arrivando anche a questi ragazzi di Borgata. Non so se erano sempre in grado di permettersi di andare al cinema, ma sta di fatto che si conoscevano, si sapevano quelle scene, per esempio, scene sulla, non so, indiani, pelle rossa contro bianchi americani, piuttosto scena di film di guerra relative alla seconda guerra mondiale in cui si poteva assistere alla tortura, nel caso, dicevamo, della guerra mondiale, oppure al palo della tortura. Quindi queste cose qua probabilmente nella mente di questi ragazzini di Borgata avevano generato uno spirito di emulazione, ecco, non sapevano essenzialmente come passare le giornate, tante volte, e il più delle volte passavano le giornate anche semplicemente così, con delle azioni che venivano loro in mente, venivano in mente al primo, al primo, insomma, esprimendo in questo modo così la loro innocenza, crudele però, perché questi loro giochi spesso erano dei giochi molto violenti e che potevano portare addirittura alla morte dei loro compagni. è il caso proprio di un giochino che accadde una giornata. Giochiamo agli indiani, ecco, quindi vi dicevo uno di questi ragazzi cominciò a dire dai, facciamo proprio come nei film, giochiamo agli indiani, gridò, e vattene, fecero gli altri sprezzanti, dai, e che si divertimo, insistette il roscetto, una roba, disse Ghignano Armandino, gridò saltando il roscetto, dai al piattolè, il piattolè, il piattoletta è il poveraccio di turno, cioè, come dire, è quello che è un pochettino magari più bersaglio, diciamo, degli scherzi dei giochi dei suoi coetanei, no? E probabilmente ha questo soprannome anche per questo motivo un po' magari sarà un po' piagnucoloso, un po' lamentoso, eccetera, proprio per questo motivo gli altri godono a fargli del male. Il piattoletta si alzò in piedi e cominciò a gridare pure lui, come dire, oh, cosa mi volete fare? saltando ora su un piede e ora su un altro, iu, iu, il roscetto li si mise al fianco per saltare insieme, iu, 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 gridavano ridendo, pure gli altri si misero a saltellare, ecco, probabilmente non riesco a rendere bene, forse volevano imitare anche i versi degli indiani, quindi iu, una cosa così, ecco, pure gli altri si misero a saltellare piegandosi con i corpi avanti e indietro e gridando iu, le bambine vennero su a vedere che succedeva e trovando tutta quella caciara si fermarono in un cerchio intorno e dissero quanto sono fanatichi, ecco qui, ripeto, è il diaretto romanesco e infatti fanatichi vuol dire come sono invasati, esaltati, ma i ragazzini davanti a loro si misero a saltare e a gridare ancora di più per fargli rabbia, ecco, quindi dicevamo il rapporto particolare che c'è tra i ragazzini e le ragazzine, si sfottono l'un l'altro, eh, famo la danza da morte, dice uno dei due, gridò il roscetto, gli altri si misero a strillare ancora più alto e appena che saltando passavano vicino alle bambine gli ammollavano un calcio e una scopola sulla testa, cioè le ragazze, questi ragazzi qua danno una sverla, giusto per dire, ma esse che se l'aspettavano erano svelte a scansarsi, ecco, anche le ragazzine, ovviamente in questo contesto non hanno nulla di femminile e devono subito arrangiarsi e darsi da fare per evitare ad esempio i colpi dei loro coetanei. Iiii, che lagna che siete, dicevano, la volete piantà a ignoranti, ma non se ne tornavano via e stavano a guardare le loro danze, però, tanto le ragazzine stanno a guardare, no? Piace guardare i ragazzi che si esaltano in questa danza degli indiani e i ragazzini, benché non ce la facessero più a saltare e urlare, continuavano sempre più forte per farsi vedere. Erpalo della tortura, gridò il roscetto. Ecco, è l'idea che salta fuori a uno dei due, a uno dei ragazzi, scusate, è un capetto, questo tale roscetto, un po' il capetto, uno dei più esagitati, uno dei più violenti, che dice, ho visto sulla, che ne so, al film, no? Che a un certo punto uno viene catturato dagli indiani, viene imprigionato, viene incatenato al paro della tortura e poi bruciano, fanno un falò e lo ammazzano in questo modo. Sì, ma pure il paro della tortura, dissero smorfosi le ragazzine, ce fate l'idee, ce fate, e guardavano con aria di compassione annoiate. Il roscetto si gettò sul piattoletta che ci dava sotto in mezzo agli altri. Quindi all'inizio il piattoletta non capisce, non intuisce che, come dire, sta rischiando grosso. Anche lui si era messo a ballare, a fare l'indiano insieme agli altri, muovendo appena i piedi perché era stanco morto a gridare iuuuuh, arparo da morte, gridò il roscetto appena l'ebbe acchiappato. Gli altri gridandolo aiutarono e trascinarono il piattoletta vicino al pilone della luce. Legamolo, gridò allo sgarone. Il piattoletta si dibatteva lasciandosi andare a terra a corpo morto. Ma rimortacci tua, gridò il roscetto che lo reggeva sotto le braccia. E sta all'impiedi, è zelloso. Ecco, il piattoletta a questo punto cerca di dimenarsi, appunto, di, insomma, si muove, si getta a terra, no? E invece il roscetto gli dice, no, no, sta in piedi, perché dobbiamo farti fare il palo della tortura e tu sarai il torturato. Ma il piattoletta non voleva saperne e si gettava in terra calciando. Gli altri intorno continuavano a strillare. Già mi sono stufato, disse il roscetto allungandogli un calcio nella pancia. Ecco, dobbiamo fermarci un attimo, sottolineare l'estrema violenza di questo gioco che prende una piega sempre più sadica. Il piattoletta diventa il bersaglio di un accanimento persecutorio estremamente crudele, di una crudeltà gratuita. Sottolinea, insomma, proprio Pierpaolo Pasolini la gratuità del male che costituisce prerogativa tristemente esclusiva dell'uomo. E questo comunque anche per l'ambiente, no? L'ambiente brutale, istintivo, senza regole, insomma, in cui si trovano a vivere diciamo così questi ragazzi, questi ragazzi di Borgata. Anche tra le donne e le ragazze insomma e i maschietti prevale il bullismo, prevale un tipo di corteggiamento e di seduzione tutto improntato sulla sulle prove di forza, di cattiveria, di arroganza e di superiorità. Ma riprendiamo la nostra narrazione. Quindi ci siamo fermati qua perché, non so se l'avete notato, il roscetto ha proprio dato una pedata, un calcio nella pancia del piattoletta. Il piattoletta cominciò a piangere così forte che superava gli urli dei ragazzini. ma piangere sto stronzo disse Armandino. Ma si non tarsi come dire una minaccia se non ti alzi perché il piattoletta cercava di stare sdraiato per terra il più possibile. Ma si non tarsi gridò il roscetto ma il piattoletta non voleva proprio saperne continuava a svincolarsi sulla polvere piangendo a tutta forza. In dieci non ce la fanno con quel storcinato lì dissero le bambine le ragazze non è che prendano le difese di quel poveraccio del debole piattoletta no se la prendono con gli altri perché pur essendo in dieci non riescono a tirarlo su e a legarlo al palo della tortura. Le ragazze in base a quel discorso che facevamo prima vogliono vedere la dimostrazione di questa prova di forza di violenza da parte dei ragazzi. Sono quelli i ragazzi che li attirano le attirano di più capite? Ma il roscetto l'aveva alzato tirandolo su per il bavero il roscetto è riuscito a rialzarlo e siccome il piattoletta gridava lassame avvio dalla mignotta tiè gli disse e gli sputò dentro un occhio poi lo strinse di brutto lo strinse tantissimo e aiutato dallo sgarone dal tirillo lo spinse contro il pilone e gli legarono con uno spago i polsi a un uncino di ferro che sporgeva dal cemento ecco abbiamo detto anche l'ambiente è tutto questo ambiente un po' diroccato dove ci non ci sono case palazzi ma è tutto un ambiente un po' ecco basta per esempio questo cemento con questo uncino per fare tra virgolette da palo della tortura nell'immaginazione di questi ragazzi che riescono a legare il piattoletto e beh bella forza sono in dieci contro uno ma ma benché così appeso il piattoletto continuava a dar calci e agitarsi quindi gli legano le mani ma i piedi le gambe sono ancora liberi e allora lui si agita scalcia tantissimo gridando gli altri ripresero le danze intorno a lui fanno gli indiani intorno a lui e strillarono più forte stando però a una certa distanza per non essere colpiti dai calci che il piattoletto allentava all'aria uffa gridò il roscetto che nessuno tiene un altro pezzo di spago quindi hanno un solo pezzo di spago e quindi possono legare solamente le mani e il roscetto a questo punto dice non è che c'è un altro c'è un altro di voi che per caso ha un altro pezzo di spago e chi ce n'ha disse il tirillo questi bambini non hanno mai niente è il piattoletto è il piattoletto gridò lo sgarone che si tiene sui calzoni sì c'è uno spago c'è una corda che sarebbe quella con la quale il piattoletto si tiene sui calzoni perché non ha la cintura e ha una corda per tenersi sui calzoni adesso gli prendiamo la corda e gli leghiamo i piedi no? capite? si gettarono sul piattoletto che gemeva e si raccomandava e mentre le bambine ridevano gridando anve di quelli gli tossero lo spago che li reggeva i calzoni questo anve di quelli è una sorta quasi di esclamazione di non so di come dire sono impressionate da quello che stanno facendo i ragazzi gli prendono lo spago la corda che lega i pantaloni del povero piattoletta e gli legarono le caviglie mo gli diamo fuoco al palo della morte gridò Armandino accendendo un fiammifero ma il vento glielo spense iuuu 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 gridavano intorno tutti gli altri a scorciagola a macchinetta tua gridò lo sgarone al tirillo nel senso che il sgarone sapeva che il tirillo aveva un accendino eccela disse il tirillo cacciandola dal fondo della saccoccia l'accendette quest'accendino e mentre che gli altri a calci ammucchiavano sotto il pirone degli sterpi benissimo sempre gridando e ballando accendette qua e là intorno l'erba secca ecco quindi fanno davvero un falò uno di questi prende un accendino inizia a bruciare l'erba secca intorno al piattoletta il vento soffiava forte da tutte le parti sul monte del Pegoraro ormai quasi buio mentre tra i guizzi di luce dello stabilimento e i lampide temporale si sentiva già qualche tuono e odore di bagnato l'erba secca si accese subito ragazzi questi lo stanno bruciando passò le fiammelle color sangue agli sterpi e intorno al piattoletto che gridava salzò un po' di fumo i calzoni intanto non tenuti più su dalla cordicella gli erano scivolati lasciandogli scoperta la pancia e ammucchiandosi ai piedi legati questo poveraccio addirittura gli cadono anche i calzoni così il fuoco dai fili d'erba dagli sterpi che i ragazzini continuavano a calciare gridando si attaccò alla tela secca crepitando allegramente sta bruciando lui i suoi vestiti per fortuna però come aveva detto qualche riga prima sta per arrivare il temporale sarebbe arrivato il temporale quindi piattoletta salva la vita per miracolo perché arriva la pioggia altrimenti questo gioco tra virgolette dai ragazzini si sarebbe trasformato in una vera e propria tragedia poveracci sono bambini che non hanno avuto un'infanzia sono diventati costretti a diventare subito adulti nel senso a scafarsela da soli in qualche modo però come abbiamo detto è visto in questo brano leggendo questo brano di Pierpaolo Pasolini sono proprio come dei diavoli in erba un'infanzia un'infanzia